ottima presentazione e dunque il mio intervento sarà diciamo finalizzato sostanzialmente a presentare le caratteristiche più importanti della cosiddetta edizione gesuita dei principi a vedremo che è una dizione errata quella di edizione gesuita e poi riferirò che nell'ultima parte del mio intervento un case study di particolare interesse che è quello che concerne la proposizione la celebre proposizione 66 del primo libro dei principi a che è la prima proposizione che si conosca nella storia della fisica in cui si cerca di affrontare il cosiddetto problema dei tre corpi un problema molto complesso sappiamo oggi non avere soluzioni analitiche in generale ma insomma newton da diverse indicazioni su questa questione bene innanzitutto allora bisogna parlare degli editori io qui ho usato la parola commentators avrei potuto usare editors di questa edizione che venne pubblicata fra il 1739 e il 1742 gli editori di questa edizione fu dunque innanzitutto ecco perché è importante l'edizione prima di parlare degli editori diciamo perché è importante l'edizione perché quest'edizione presenta un apparato di note che è più lungo del testo stesso di newton poi vedremo alcuni esempi ci sono pagine intere dedicate esclusivamente alle note degli editori e quindi c'è da chiedersi qual era lo scopo di un'edizione di questo genere che il cui primo volume appunto apparve nel 1739 quindi un po per l'ultima edizione dei principi a di newton la terza del 26 quindi pochi anni dopo la pubblicazione della terza edizione diciamo l'idea di base è quella di diffondere la concezione newtoniana fra persone che hanno una qualche preparazione di fisica e di matematica e che però non sono esperti non sono fisici o matematici professionisti e quindi vedremo ci sono varie note di tipo diverso la maggioranza dedicate a questo tipo di uditorio ce ne sono però alcune interessanti e utili anche anche per gli specialisti quindi diciamo quest'edizione entra nel novero delle pubblicazioni che vogliono diffondere il verbo newtoniano sul continente anche a persone che ovviamente devono avere una preparazione di fisica e matematica ma che non sono professionisti della materia quindi gli editori in realtà sono tre anche se sul frontespizio ne compaiono soltanto due che sono thomas lassier e françois jacquier chi sono questi due compa diciamo normalmente si parla di edizione gesuita in realtà è un errore perché loro scrivono esplicitamente di provenire ex gallicana minimorum famiglia cioè a dire la serie jacquier erano frati minimi non erano gesuiti e erano due personaggi piuttosto conosciuti perché scrissero una serie di libri una serie di pubblicazioni piuttosto significative scrissero per esempio in occasione della caduta di parte della cupola di san pietro insieme a un altro personaggio famoso boscovic scrissero riflessioni sopra alcune difficoltà aspettanti danni e risarcimento della cupola di san pietro elementi scrissero anche insieme un trattato di calcolo integrale e jacquier da solo scrisse un libro di teoria della prospettiva secondo i principi di brooke taylor però diciamo da un punto di vista un certo punto di vista il personaggio più importante dietro questa edizione fu lo scienziato svizzero jean louis calandrini e fu il più importante per due ragioni la prima diciamo così fu una ragione di tipo pratico perché calandrini trovò il supporto troppo gran parte del supporto finanziario per far sì che l'edizione venisse pubblicata e inoltre e inoltre aggiunse alcune delle note più significative e queste note hanno una storia anche particolare una curiosità cioè nel nel primo volume nel primo libro si dice esplicitamente che le note di calandrini sono connotate sono indicate con un asterisco nei libri successivi si dice l'asterisco non comparirà più e invece continua ad apparire quindi c'è anche questa curiosità e bisogna dire che calandrini fu uno scienziato molto versatile in età giovanissima a 19 anni all'accademia di ginevra discusse una tesi sulla natura dei colori proprio secondo la teoria di newton nel 22 anni dopo ottenne la cattedra di matematica all'accademia di ginevra insieme a un altro matematico famoso che gabriel kramer tuttavia prefi piuttosto che stare a insegnare si vede non aveva problemi economici preferì viaggiare attraverso l'europa olanda francia e inghilterra per migliorare il suo livello scientifico e poi nel 34 accettò la cattedra di filosofia che naturalmente è filosofia naturale quindi sostanzialmente di fisica all'accademia delle scienze di ginevra contribuì con un progetto al rifascimento della cattedrale di ginevra e scrisse contributi abbastanza importanti riguardanti l'astronomia e il fenomeno dell'aurora boreale e appunto quando vi ho detto che nell'edizione ginevrina compaiono anche elementi interessanti per gli studiosi specialisti bisogna dire che calandrini inserì una teoria del moto medio della luna e dell'attrazione del sistema terra luna che fu la prima teoria dopo il lavoro di newton e inserita in un trattato di 50 pagine all'interno dell'edizione ginevrina poi invece scrisse anche un trattato sulle sezioni iconiche e questo invece è sempre inserito nell'edizione cinevrina e questo invece il caso tipico di un trattato scritto per persone che volevano acquisire una certa conoscenza delle iconiche ovviamente in relazione al lavoro di newton quindi non per specialisti diciamo una specie di manuale di alto livello sulle iconiche e appunto a conferma di quello che vi dicevo è anche l'enciclopedia britannico dizionario delle arte scienze e letteratura generale del 1847 sottolinea che calandrini nell'edizione gesuita dei principi in se super intende quindi soprintese alla pubblicazione dell'edizione cinevrina dei principi e lui fu il primo a migliorare ed estendere la teoria newtoniana delle della luna e le due cose non sono separate perché questo miglioramento ed estensione della teoria newtoniana della luna compare proprio come trattato inserito all'interno dell'edizione gesuita quindi come vi dicevo questa edizione una ristampa della terza edizione dei principi a nella prima edizione ginevrina diciamo quella pubblicata fra il 39 il 42 è in quattro volumi il primo volume corrisponde al primo libro il secondo volume al secondo libro il terzo volume al terzo libro limitatamente alle prime 24 proposizioni e il quarto volume alle altre proposizioni del terzo libro nel 1760 fu pubblicata una seconda edizione ginevrina questa volta in tre volumi ognuno dedicato a un libro dei principi a e quest'edizione corregge alcuni errori alcuni errori di battitura della prima edizione e invece l'edizione a cui io e raffaele abbia io e professor pisano abbiamo fatto riferimento è la terza edizione pubblicata nel 1822 a glasgow che riprende il format della prima edizione quindi è in quattro volumi questa edizione è molto importante perché corregge non solo alcuni errori di battitura ma anche alcuni errori non erano molti comunque alcuni errori concettuali delle precedenti edizioni wright era un grande conoscitore un grande esperto dei principi a wright fu colui che curò l'edizione di glasgow e scrisse anche un commentario completo sul capolavoro newtoniano come curiosità probabilmente il nome sbagliato di edizione gesuita deriva proprio dai tipografi dell'edizione di glasgow che scrissero che la la serie giacchier appartenevano alla società si esu erano societati si esu sociorum cioè erano tra i soci della società gesuita invece non è vero loro erano fra frati minimi quindi quali sono le ragioni di interesse specifico le ragioni generali le abbiamo già viste di interesse dietro l'edizione gesuita quali erano poi le ragioni di interesse specifico in primo luogo in quest'edizione venne ben chiarito il modo in cui newton usò la matematica nei suoi principi a cioè cosa vuol dire questo che molte dimostrazioni molto del tutto corrette ma molto ellittiche lasciate dal newton vengono estese ampliate e spiegate bene viene spiegata la problematica relazione fra geometria e calcolo nei principi a perché cosa faceva newton lui sviluppava le sue dimostrazioni lavorando sulla geometria classica fino a un certo punto quindi non introducendo concetti analitici lavorando in maniera sintetica sulle figure quando poi doveva passare al limite allora li introduceva concetti analitici però la veste complessiva della presentazione è una veste di tipo geometrico quindi è una cosa piuttosto problematica e i editori dell'edizione ginevrina spiegarono bene questa parte e c'è da dire che appunto i metodi di geometria infinitesimale di newton già pochi anni dopo la pubblicazione del capolavoro newtoniano vennero abbandonati in favore di un approccio di tipo completamente analitico quindi questo documento che che è dell'edizione ginevrina dei principi a in cui tutti i metodi di geometria infinitesimale di newton vengono ben spiegati è un documento veramente importante sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista storico quindi riassumendo quale erano le gli scopi degli editori quali erano gli scopi dell'edizione erano entrare in ogni dettaglio delle prove di newton e spiegare ogni passaggio che newton aveva dato per scontato spiegare le prove geometriche dopodiché trascriverle in termini analitici e spiegare un quadro in cui la fisica e l'astronomia fosse come si erano sviluppate la fisica e l'astronomia a partire dalla prima edizione del principio quindi ci sono anche note di tipo storico comunque l'edizione come vi dicevo rimane all'interno di una cerchia di persone che la matematica la conoscevano c'è poi un interesse sociologico dietro e politico perché appunto l'edizione rientra nella diffusione del newtonianesimo sul continente d'accordo quindi perché poi volevo fare quanto ho ancora una decina di minuti scusate mi sentite credo dalla campanella mi sembra di ricordare che ce ne siano cinque allora siccome ho dato una spiegazione già del tipo di note vengo a parlare molto brevemente a questo punto della proposizione 66 del primo libro è dei principi a questa è una proposizione fondamentale perché newton affronta il problema dei tre corpi ho portato la traduzione inglese vi leggo la traduzione italiana di pala se tre corpi le cui forze decrescono in ragione del quadrato delle distanze si attirano mutuamente e le attrazioni acceleratrici di due qualunque verso il terzo sono fra loro inversamente proporzionali al quadrato delle distanze e i più piccoli ruotano intorno al più grande dico che il corpo interno metto la figura dico che il corpo interno descriverà intorno al più interno e massimo quindi il corpo chi intorno al corpo ti condotti raggi verso il medesimo aree maggiormente proporzionali ai tempi e una figura molto più vicina alla forma di un'ellisse avente il suo fuoco nel punto di incontro dei raggi ecco qui forse l'ultima parte della citazione che ho riportato necessita di una breve spiegazione che cosa vuol dire in sostanza newton che il corpo interno p fra i due corpi rotanti p ed s descrive intorno al corpo più grande r aree che sono maggiormente proporzionali ai tempi e una figura più vicina a quella di un'ellisse quanto più le attrazioni esercitate dai due corpi piccoli su t altri due minuti e finisco sono centrali e inversamente proporzionali ai quadrati delle distanze dal corpo ti allora solo brevemente per dirvi questa che vedete è mi volevo riferire al corollario 2 è la precisa è un corollario di questa importante proposizione per farvi capire il lavoro degli editori quella che vedete core 2 pagina 328 329 è diciamo così la dimostrazione lasciata da newton molto ellittica e molto brachi logica quelle due paginone grandi scritte in carattere molto piccolo rappresentano la spiegazione data dagli editori della dimostrazione di newton e questo avviene quasi per ognuna delle dimostrazioni date da newton e qui taccio ringraziamo paolo bussotti per questa bell'escluso sulla sull'edizione dei principi a di newton che mi pare ancora riportare l'attenzione su quello che è stato lo scambio tra diciamo tra tra scienziati tra scuola tra ricercatori appartenenti agli ordini religiosi e quelli che invece operavano al di fuori degli ordini religiosi perché questo si osserva in tutto il seicento ma poi mi sembra di intendere che ancora nel corso del settecento è extremamente importante questo scambio in particolare appunto per quello che riguarda la questione della diffusione delle idee newtoniane dove brevemente commentando appunto il tuo intervento là dove le idee newtoniane potevano forse dare qualche problema alle alte gerarchie degli ordini religiosi ma coloro che appartenevano all'ordine religioso ma di fatto si occupavano di scienza non potevano non prendere considerazione questi grandiosi e grandi straordinari contributi quindi no qui c'è la complessità del rapporto tra lo scienziato e religioso militante e mi sembra no di intendere anche i suoi i suoi le sue le autorità interne all'ordine sicuramente sicuramente